È stata presentata presso Palazzo Adorno la 19esima edizione della Kermesse estiva Un'emozione dal Salento, la colorata manifestazione sonora divisa in tre eventi organizzata con cura ogni anno dall'Associazione Magliano Ti Amo per valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio. Questa Kermesse si diluisce ormai e si disloca in diversi step c'è questo connubio con il comune di Copertino dove nella splendida cornice del castello ci sarà la serata del 15 luglio poi con la finale il 22 luglio a Carmiano ma poi c'è sempre incastonata nella Kermesse del Magliano Ti Amo un'emozione dal Salento la gara Canora annovera la partecipazione di numerosi artisti che vengono da diverse parti del mondo e questo ci fa molto piacere perché è un modo per far conoscere ai più e oltre anche Oceano perché ci sono cantanti che partecipano e vengono come è stato detto da Hong Kong, dalla Cina, dalla Corea e quindi per far conoscere il nostro territorio anche oltre Oceano e sosterremo Magliano Ti Amo, l'abbiamo sempre sostenuto, lo sosterremo e siamo in attesa di assistere alla diciannovesima edizione che sicuramente come al solito ci lascerà bocca aperta. Sabato 22 luglio andrà in scena l'ultimo appuntamento della manifestazione nel Parco della Musica e della Scienza di Magliano dove il pubblico potrà assistere ad esibizioni di artisti del calibro degli Homo Sapiens e Alan Sorrenti, alle musiche dell'orchestra Terre del Sole, al cabaret Made in Sud di Carmine Franco alle coreografie di Nina Fersine e a tante e tantissime altre sorprese ancora non svelate. Abbiamo un'emozione d'alzalento, a Magliano ci saranno grandi ospiti come ogni anno è strutturato su un palco di 500 metri quadrati dove ci saranno grandi scenografie con grandi coreografie il presidente di Varaganato è Raffaella Di Caprio quindi speriamo che anche quest'anno ci sia il pubblico delle grandi occasioni. Vi aspettiamo a Magliano il 22 luglio sabato alle ore 21.